Un giovane italiano di 15 anni si è ucciso in casa a San Benigno Canavese nella notte fra mercoledì e giovedì. Si è sparato un colpo di fucile azionando l'arma con un congegno ideato e costruito allo scopo e puntandola sul proprio volto. È morto sul colpo. L'arma era di proprietà del padre ed era regolarmente registrata. Il corpo è stato trovato giovedì mattina dai genitori che non si erano accorti di nulla. Il cadavere del giovane era sul letto della sua camera nella mansarda all'ultimo piano della palazzina dove abitava. Si presume che si sia trattato di un gesto dovuto a ragioni sentimentali. Nella camera è stato trovato un biglietto della fidanzatina del ragazzo che gli annunciava di volerlo lasciare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Chivasso. All'interno dell'appartamento sono state sequestrate 13 armi, tutte regolarmente denunciate dal padre della vittima.